Il mondo dei cameraphone sta cambiando, l'asticella si sta alzando tantissimo, tant'è vero che la copertina che ho scelto non è un caso, per quel che mi riguarda dobbiamo un po' ridefinire i modelli che stanno all'interno di questa categoria e ad oggi ne abbiamo soltanto due. E adesso andiamo a farci un'analisi dei file grow su Lightroom di Xiaomi 14 Ultra e Vivo X100 Ultra. In molti mi avete chiesto di portare in questo confronto anche iPhone e io ho scelto di non farlo per una ragione molto molto semplice. La faccio vedere facendo scorrere queste immagini di un video già disponibile sul canale dove abbiamo messo a confronto iPhone 15 Pro Max con Xiaomi 14 Ultra e Vivo X100 Pro e constatato come la qualità dei file grow addirittura e specialmente sul sensore principale fosse ampiamente inferiore sotto tutti i punti di vista, pulizia d'immagine, risolvenza ottica, lavorazione del software, lavorabilità sui programmi di editing, nel nostro caso Lightroom e molto molto altro. Quindi, visto che siamo già strapieni di creator, professionisti, pubblicitari, quello che vi pare che ci propinano sempre i soliti due, tre brand commerciali, non mi sembrava il caso di contribuire a questa cosa portando per l'ennesima volta iPhone in un contesto che in realtà qui dove parliamo di file ci divertiamo ad analizzare i file e la potenza bruta del telefono e quindi tutti i discorsi su chi ama la fotografia da smartphone, in realtà la puoi fare anche con uno smartphone di 15 anni fa o puoi fare delle belle foto anche con una compatta di 30 anni fa, sì siamo d'accordo, è un'altra cosa, qui analizziamo la qualità dei file, punto. non mi sembrava il caso appunto di portare iPhone. Chiudo qui questo argomento, vi rimando al video dove già è stato fatto praticamente questo confronto anche se col Vivo X100 Pro e non Ultra, ma vi assicuro che poco cambia. Vi ricordo anche, come sempre, prima di lanciare subito il confronto, di seguirmi anche su Instagram, TikTok e sul mio sito www.vincenziodecaro.com dove trovate dei preset Lightroom, vi faccio vedere qualche scatto, ideati appositamente per smartphone e delle LUT ideate appositamente per iPhone, Apple Log e Xiaomi, Xiaomi Log per poter sfruttare al meglio i vostri top di gamma, anche se non siete magari molto esperti o ferrati per quel che riguarda il mondo della post-produzione. Date un'occhiata, link in descrizione. Io avevo fatto per questo video in realtà un po' di esperienziale su Roma, ma esistendo già il video dedicato al Vivo X100 Pro, che sostanzialmente, ragazzi, è identico su tutti i punti di vista a parte i sensori nuovi che porta, mi sembrava un po' inutile perderci tempo. Quindi io vi lancierei direttamente il confronto su Lightroom, vi dico, non perdetevi nulla, saranno tante foto, ne ho fatte tante, tanti confronti, perché per capire poi il verdetto finale, ammesso che ci sia, non dovete perdervi nessuna sfumatura dell'analisi che andremo a fare. Io in apertura vi dico solo le novità appunto sotto il punto di vista hardware, ovvero Vivo X100 Ultra, sta facendo parlare tanto di sé perché per la prima volta abbiamo un sensore da un pollice quasi, con una lente davanti, teleobiettivo da 85 mm, e direi di andare subito su Lightroom per analizzare i fatti. Io vi metto sempre lo Xiaomi a sinistra e a destra invece il vivo, ma vi accorgete della differenza, ad esempio sul teleobiettivo anche per il diaframma f2.7 e f1.8 in questo caso. 75 mm, 85 mm, quindi abbiamo una prova su un campo medio-lungo con i teleobiettivi. La prima cosa che vi voglio far notare di entrambi è la bellezza dei colori e la tridimensionalità in generale del file. Vi ricordo che abbiamo file RAW da 12 bit su entrambi, in Ultra RAW e Super RAW dovremmo arrivare addirittura a 14 o 16 bit, quindi vi lascio immaginare come si può giocare con i colori su questi file, con una profondità a colore veramente pazzesca. Detto ciò, iniziamo subito con l'analisi, vi faccio notare, e sarà costante in questo confronto, come la gestione dei parametri sia molto diversa. Infatti, nonostante a tutto schermo sembrino entrambi i scatti realizzati in maniera ottima, diciamo, a livello di congelamento della scena, il vivo ha un po' di micromosso, ad esempio sul tram che stava passando, ha una velocità, devo dire, irrisoria davanti alla stazione Termini, mentre è perfettamente congelato sullo Xiaomi. Detto ciò, dopo ci vedremo meglio questa cosa, notare comunque il dettaglio su entrambi, vediamo al centro della lente, ad esempio, come il vivo sia incredibilmente pulito, il dettaglio sia altissimo, le lascio così, di modo che c'è anche la proporzione tra le due focali, quindi leggermente più zoomata sul vivo, e mentre invece notavo al bordo della lente va un po' a perdere rispetto allo Xiaomi. La qualità al bordo della lente, che è una caratteristica critica per molte lenti, per l'appunto, si perde un po' via, in compenso però, è veramente un botte risposta, noto molte più aberrazioni cromatiche sui punti luce sullo Xiaomi, se notate, qui e qui. Quindi un po' di perdita di dettaglio va a sbiadirsi un pochettino l'immagine sul bordo, ma in compenso aberrazioni migliori e una nitidezza generica che è molto molto alta su entrambi, ma se andiamo a esasperare i crop viene fuori quel qualcosina in più della lente del vivo. Se riesco vi metto in sovraimpressione anche un file editato volutamente pesantemente, ad esempio così vi rende l'idea di quanto editing sia possibile fare su questi file e siamo su un sensore secondario. Con la parentesi vi ricordo come sempre che questo video è reso possibile grazie alla mia collaborazione con Nando75, punto di riferimento per acquisto e rivendita di smartphone nuovi e usati su Roma, dove trovate il negozio fisico Phone Hero, e su tutto il territorio nazionale dove lavora con spedizione. Canale Telegram in descrizione, primo link, trovate veramente qualsiasi modello, anche il più introvabile, anche quello che sul territorio europeo non arriva, e quindi se dovete cambiare smartphone date un'occhiata alla bacheca di Nando75. Sensore principale, una mezza figura, e qui volevo farvi notare, ve l'ho portata questa, per farvi notare quanto siano incredibilmente allineati sul sensore principale, e come la differenza, la questione legata alla lente Zeiss, venga un po' meno sul sensore principale, perché la qualità è talmente alta anche sullo Xiaomi, che a me personalmente sembrano veramente perfettamente allineati, notare anche come a livello di parametri siano quasi veramente sovrapponibili con le scelte che hanno fatto, lo sfocato è il medesimo, la focale è la medesima, 23 mm, Sì, abbiamo un po' più di diaframma sullo Xiaomi, io non ho giocato con il diaframma variabile, valore aggiunto ovviamente enorme dello Xiaomi, proprio perché li volevo testare a tutta apertura, sempre per non andare a impazzire con troppi parametri. Sinceramente qui la questione nitidezza e dettaglio ottico mi sembra veramente equiparabile, sono assolutamente due scatti molto semili, anzi può risultare un po' più nitida in alcuni punti l'immagine sullo Xiaomi, adesso lascio qua capelli e questa cinghia della borsa, ma noto sempre qualche aberrazione cromatica in più. Forse il vantaggio se andiamo a vedere il pelo nell'uovo, niente che non si possa risolvere in post, ma la lente del vivo è veramente molto molto pulita sotto questo punto di vista. Per il resto insomma, livello molto molto alto su entrambi. Vi riporto un altro esempio col teleobiettivo che va a riconfermarmi come la lettura dello scenario secondo me sia in full auto più affidabile sullo Xiaomi, lo vedremo ancora in futuro perché qui va a darci uno scatto che è più vicino a come avrei scattato io se mi fossi messo a impostare i parametri manuale, soprattutto a causa dei tempi di scatto non ci va a creare nessun tipo di micromosso, mentre sul vivo, come potete vedere, purtroppo, nonostante questo non sia uno scenario così tanto complicato, c'è un po' di micromosso. Dopo approfondisco questa questione, quindi come vi dicevo non perdetevi nessuna passaggio di questo confronto. Andiamo su uno scenario molto difficile, quindi soggetti in ombra, sfondo sparatissimo, anche qui notiamo come sempre il RAW, non è ultra RAW, non è super RAW, lo Xiaomi tende a preservare di più le alte luci, il che su uno smartphone con certi limiti mi fa sempre molto piacere, ma se la memoria non mi inganna, super recuperabile tutto sul vivo. Andiamo a vedere anche come aprendo un po' le ombre, anzi apriamo le tutte, facciamo il solito test estremo, sotto la qualità, sì c'è del rumore, bisogna risolvere delle cose, siamo d'accordo, va lavorato, ma io vi vorrei invitare a notare quanto è veramente tagliente questa lente, naturale e dettagliata a livello di risultato. E qua un po' mi dispiace non aver portato iPhone e Samsung, perché so che in queste casistiche, con soggetti in sottotono, quando andiamo ad aprire succede un disastro su quei modelli lì, giusto per rimarcarvi l'idea e cercare di comunicare un po' che la fotografia su smartphone si sta evolvendo e va sottolineato quando succedono queste cose qui. Anche sullo Xiaomi ovviamente, lo sappiamo bene, abbiamo grandi possibilità di recupero e una lente sempre incredibilmente tagliente e dettagliata, un po' più morbida, un po' più morbida. La lente Zeiss, diciamo che porta un contributo che si fa notare nel risultato finale. Stessa casistica qui, di questo ho anche lo scatto dal vivo, per farvi vedere come sullo Xiaomi, rispetto al vivo, in questa modalità quantomeno, RAW 12, che è il minimo in realtà possibile per lo scatto in RAW, ci sia un pelino di shutter lag. In tutti gli scatti, qui lo vedete bene, il vivo congela il frame al millimetro rispetto a quando vado a premere lo shutter, lo Xiaomi prende sempre il frame dopo, vedete qui che il passo è già stato fatto. Questa, durante la posa a caffè, giusto per risottolinearvi come siano quasi identiche sotto il punto di vista del bokeh, le due ottiche. Abbiamo sì quel poco poco in più di diaframma sullo Xiaomi, il sensore lo stesso. Si percepisce forse qualcosina in più a livello di bokeh, sì, si percepisce, diciamolo. Però sono molto molto equiparabili, secondo me, sul sensore principale. Quindi, bel lavoro. Ovviamente il grosso valore aggiunto è che lo Xiaomi ha il diaframma variabile, il vivo no. Macro, che me la chiedete spesso, Xiaomi a sinistra, vivo a destra. Scusate, con le distanze, non sono riuscito a mettermi sulla stessa identica distanza, quindi lo scatto di Xiaomi risulta un po' più ravvicinato. Ma volevo farvi notare come appunto la macro, per chi si diverte con questa fotografia, o per chi proprio lavora con questo genere fotografico, inizia a diventare qualcosa di interessante su smartphone nel momento in cui appunto viene applicata a questi teleobiettivi questa tecnologia flottante. Insomma, è un qualcosa che, secondo me, ancora non siamo abituati a vedere su smartphone e fa piacere vedere che più brand iniziano a puntare. E ve lo ripropongo anche in questa per sottolinearvi come in realtà, secondo me, quantomeno, poi forse andrà a gusti, non lo so, ma il teleobiettivo dello Xiaomi ha proprio una caratteristica legata allo sfogato. Adesso lo scatto è un po' sottotono, vado ad aprirlo. Ok. Vivo a destra, Xiaomi a sinistra. Nel dettaglio, il vivo ha sempre quel... la leggera cosa in più, anche bella qui la riproduzione dei colori, meno rumorosi i RAW già in partenza, mentre se lo Xiaomi, per avere un risultato del genere, bisognerebbe scattare in Ultra RAW. Quindi gestione molto buona del rumore. del rumore. Però il bokeh, invece, è un po' più da... Questa poi magari è una preferenza mia, ma è un po' più marcato sullo Xiaomi, mi piace un po' di più. È un po' più, non so, ruvido forse sul vivo. Mi ricordo un po' più le lenti vintage, un po' diciamo fondo di bottiglia, se vogliamo essere cattivi, ma una roba del genere. Preferisco quello dello Xiaomi. Poi ditemi la vostra, insomma, per chi magari di lenti ne ha viste e gli ricorda qualcosa, magari qui in casa Laika e qui in casa. Lenti con vetri Zeiss. Una cosa interessantissima, rimanendo sul teleobiettivo, è la questione dei riflessi. La lente del vivo, le lenti, immagino anche quella normale, risulta quasi polarizzata, come se ci fosse già un filtro polarizzatore davanti. Guardate qui, quanto è pulita dai riflessi questa immagine fatta esternamente ad un autobus. Guardate specialmente qui dove hanno la stessa tipologia di riflesso perché qui magari le persone sono passate via e non si vedono più. Ma qui il riflesso è molto più debole e qui esageratamente più marcato. Quindi abbiamo anche questa cosa sul vivo di lenti che gestiscono i riflessi e anche in realtà la gestione del flare in maniera particolare. Qui ennesimo problema su uno scatto, secondo me, abbastanza facile legata allo lettore dello scenario del vivo che è molto meno affidabile in questo e infatti ci propone un soggetto mosso e una foto quasi, anzi direi, inutilizzabile rispetto allo Xiaomi che in punta e scatta ha raggiunto veramente dei livelli pazzeschi e congele il soggetto in maniera precisa. Mezzo primo piano un po' strano dei due teleobiettivi stessa distanza per vedere un po' cosa ne viene fuori e sensore più grande focale più spinta sì abbiamo meno diaframma ma lo sfocato possiamo vedere che è molto più presente a parità di inquadratura sul vivo. A me come sfocato in generale come tipologia di sfocato continuo a preferire quello dello Xiaomi con il suo bokeh un po' particolare ma a livello di presenza ovviamente è una questione proprio fisica col vivo si possono fare grandi cose. Affidabilità della lettura degli scenari anche qui sensore principale su questa anche qui se riesco vi faccio vedere un po' di immagini in presa diretta mi sono più volte mosso ho fatto più scatti con vari soggetti che passavano eccetera e nel complesso vi porto queste foto perché sono emblematiche il risultato era un po' sempre questo Xiaomi super affidabile ottima lettura dello scenario il vivo qui ha sparato e ha sparato forte ovviamente sappiamo ormai stiamo diventando consapevoli di quanto siano lavorabili questi file e voi ditemi su quale altre smartphone tolti questi brand si riescono a fare recuperi del genere quando si sbaglia in fase di scatto è tutto totalmente ritirato fuori il dettaglio sulle alte luci ho fatto poi una prova un po' più cattivella con me soggetto fronte camera in ombra e lo sfondo per andare a vedere sempre a livello di recuperi come si comportano questo è il RAW abbasso tutte le luci e abbasso l'esposizione e vedete che qui siamo andati troppo oltre e il vivo non riesce a tirar fuori tutto il dettaglio dallo sfondo se invece vi metto lo Xiaomi qui a sinistra vi faccio vedere come la lavorabilità dello Xiaomi ragazzi è imbattibile non so che stregoneria hanno fatto ma notate come dopo un po' di recupero vivo a destra e non siamo riusciti a tirar fuori tutto il dettaglio ultra RAW invece abbiamo visto come lo Xiaomi quest'anno ha fatto passi da gigante in quanto in realtà in fase di scatto non applica una post-produzione come magari fa l'Apple Pro RAW e come fa il Super RAW di vivo ma scattiamo otteniamo un file equiparabile al file che avremmo scattando in RAW che in teoria lo scatto è più lento si sommano più scatti quindi ha una profondità colore maggiore e maggiore informazioni per il recupero il vivo invece ha questo approccio un po' più vecchio secondo me ormai dove si va ad applicare un HDR super spinto quindi vedete che rispetto allo scatterro di prima ci sono tutti i dettagli ma è un effetto un po' strano un po' artificiale classico HDR un po' troppo spinto invece se prendo lo Xiaomi Ultra RAW che ora vi metto qua e vado a recuperarlo ritiro fuori tutti i miei dettagli e posso andare a lavorarlo io per ottenere la resa che voglio quindi questa è un po' la differenza su due file messi equiparati un attimo in maniera molto grossolana io preferisco questo approccio qui l'approccio di Xiaomi differenza in RAW questi sono due scatti RAW eccolo qui vivo a destra Xiaomi a sinistra super equiparabili vivo non ce la fa a recuperare queste alte luci Xiaomi idem troppo estremo questo questo test un po' troppo estremo quindi più o meno io vedo sempre un recupero migliore sullo Xiaomi non so se è un'impressione mia però li abbiamo spinti davvero su uno scenario che andava oltre il limite forse qui ecco qui è uno di quei casi in cui scattare in Ultra RAW ragazzi diventa molto utile vedete che sullo Xiaomi in Ultra RAW ti va a recuperare tutto quindi effettivamente ci sono più informazioni e su uno scenario così magari fisso posato dove possiamo ragionare evitiamo anche un po' tutti i rischi dell'Ultra RAW che vi ho raccontato nel video dedicato e che ormai sono veramente ridotti all'osso sul 14 Ultra e riusciamo a portarci a casa lo scatto Ultra Wide su cui come sempre non scatto tantissimo Xiaomi a sinistra vivo a destra molto simili anche qui un po' più caldo lo scatto del vivo ma lo scenario era davvero infamotto ragazzi vediamo sull'ultra grandangolare recupero molto interessante del vivo e qui lo Xiaomi invece va a soffrire di più ecco qui dettaglio ritirato fuori sul vivo irrecuperabile sullo vediamo in Ultra RAW vivo effetto HDR devo dire in perfetta continuità su tutti e tre i sensori da proprio l'idea di essere appunto sempre la stessa camera a scattare sullo Xiaomi programma recuperare e in Ultra RAW i dettagli escono quindi confronto che vi sta servendo anche a capire come l'Ultra RAW comunque quella marcia in più ce l'ha in questi scenari molto estremi allora ritratto invece in esterno sempre dell'obiettivo 75-85 ma ho chiesto a Marco gentilmente di avvicinarsi un po' con lo Xiaomi per ricreare un po' lo stesso taglio su di me gestione della lettura dell'esposizione secondo me ottima su entrambi non mi sembra abbiano fatto danni sono molto equiparabili sempre un po' più caldo mi sembra sul vivo il profilo colore e vediamoci il dettaglio in questa situazione se emerge la superiorità del vivo a livello di dettaglio ottico anche perché qui ho volutamente scattato a 50 megapixel proposta che lo Xiaomi non ci fa sui sensori secondari in RAW si può scattare a 50 megapixel solo sul principale mentre il vivo ci permette di scattare a 50 anche sull'obiettivo sull'ultra wide no ed è ragazzi impressionante il dettaglio di questo telefono cioè io qua mi vedo i lucchi invisibili che ho sul volto si vedono e il dettaglio è proprio bello non so come dirvi non c'è nessun tipo di elettronica di software che va ad amplificare il dettaglio dell'immagine è proprio una resa naturale stupenda è secondo me meravigliosa anche la resa dello Xiaomi ci ho fatto dei ritratti pazzeschi la qualità è altissima diciamo che si sente la differenza di megapixel giustamente con un hardware valido dove il megapixel in più si è 50 sono sempre esagerati secondo me per questi sensori però diciamo su sensorini ancora più piccoli magari e mal gestiti poi creano più un impastarsi dell'immagine che altro qui sono gestiti bene e diciamo sono un buon valore aggiunto del vivo rimaniamo sui ritratti invece 12 e 12 allora vi faccio notare sempre come la gestione del flare che qui leggermente forse infastidiva lo Xiaomi sul vivo sia impeccabile l'immagine è molto meno opaca quindi sullo Xiaomi ad esempio provo adesso ad allinearlo c'è proprio sempre in maniera molto grossolana se andiamo a rimuovere la foschia magari ad alzare un po' in post produzione riusciamo un minimo appunto ad allinearli però bel valore aggiunto delle lenti Zeiss sfogato continuo a preferire quello dello Xiaomi vi faccio vedere il bokeh e questo invece è quello del vivo ci sono pro e contro differenti poi nel momento in cui si fa ritrattistica ci sono mille variabili che il fotografo guarda per scegliere con quale camera e con quale lente fare il ritratto a me nel complesso la resa bella morbidona dello Xiaomi mi piace tanto perché comunque ci partiamo a casa da tanto dettaglio ma nel complesso è uno scatto che rimane abbastanza morbido ora vi faccio vedere qualche esempio rimane molto naturale sotto il punto di vista del dettaglio ed è una caratteristica molto rara su smartphone il vivo è un po' più tagliente un po' più Sony style se vogliamo vi faccio però sempre notare come sia poco affidabile nel punta e scatta purtroppo specialmente sul teleobiettivo perché abbiamo del micro mosso vedete che ha scelto un cinquantesimo come valore per fare questo ritratto ed è un po' azzardato unito al fatto che ragazzi adesso vi riporto un altro ritratto che volevo far vedere alla fine ma in notturna dove proprio abbiamo un disastro su vivo unito al fatto che succede questo perché in modalità pro non so come mai non c'è nessuna stabilizzazione ottica sotto l'obiettivo né elettronica né ottica e neanche attivabile mi sembra dalle impostazioni siamo totalmente con un'ottica totalmente non stabilizzata 85 mm insomma balla balla anche se ci sforziamo insomma con la mano ferma e infatti guardate qui teleobiettivo contro teleobiettivo come con lo Xiaomi in questi scenari mi posso portare a casa uno scatto dignitoso con il vivo diventa davvero complicato senza un cavalletto lavorare a mano libera e forse vi sto facendo vedere il video in questo momento vi assicuro che era davvero difficile in morta ne ho fatti tanti qui a termini dove la luce è poca ed è stato veramente complesso ottenere uno scatto fermo sul sensore principale un po' meglio però guardate lo Xiaomi come code di stabilizzazione migliore cioè non so come dirvi diventa con poca luce incredibilmente molto più nitido lo Xiaomi no? sì sì no credo si veda anche da da YouTube c'è un qualcosa che non funziona sotto questo punto di vista non ho approfondito poi gli scatti in notturna avviciniamoci verso la fine di questo confronto teleobiettivo su un campo medio qui vi faccio vedere come il sensore più grande via quel qualcosa in più a livello di tridimensionalità su questo scenario comunque è abbastanza largo guardate come sul vivo abbiamo già un po' di sfogato qui mentre sullo Xiaomi è molto più nitida la parte di fotografia che sta qua immediatamente diciamo in secondo piano dietro al soggetto dobbiamo arrivare qua in fondo per iniziare a vedere un po' di sfogato molto più presente sul vivo quindi come dire ripeto pro e contro differenti questi teleobiettivi sicuramente una cosa veramente apprezzabile del vivo quando riesce a congelare il soggetto è sul teleobiettivo il dettaglio se ci piace la foto molto tagliente tanta tanta roba e soprattutto la pulizia d'immagine in generale sempre molto 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 pulita ultima foto sempre per riconfermarvi abbiamo chiuso il cerchio quel poco poco di shutter lag in più sullo Xiaomi vedete che mi cattura il frame dopo lettura degli scenari qui identica stesso medesimo lavoro vi faccio rivedere la bontà di queste lenti di questi sensori apro tutte le ombre sforzando volutamente e guardate che come rimane diciamo utilizzabile naturale e sul sensore principale assolutamente equiparabile sotto tutti i punti di vista la fotografia è davvero davvero impressionante la versatilità che ti dà in post produzione questo sensore il lit 900 ed entrambi i smartphone e come la lente sia super piacevole a livello di risolvenza dunque ragazzi conclusioni spero che il confronto sia stato esaustivo che vi abbia dato un'idea diciamo completa sotto questo punto di vista io credo che sia abbastanza semplice la marcia in più del vivo è sotto il punto di vista delle lenti della qualità delle lenti soprattutto sui sensori secondari sul principale questa cosa direi che non si avverte ma sui secondari la questione aberrazioni la questione gestione dei riflessi gestione del flare e quant'altro emerge e se ci piace quella lente molto tagliente a livello di dettaglio è davvero inequiparabile ad altro io continuo a preferire lo Xiaomi nel complesso e a consigliarlo perché su alcuni punti molto importanti è semplicemente migliore almeno ad oggi la lettura degli scenari in punta e scatta in punta e scatta è ancora oggi una modalità più utilizzata e sensata anche in un approccio più pro rispetto allo smartphone e quindi abbiamo visto ci sono degli scatti che tra micromosso riguardo al teleobiettivo e esposizione gestita male in generale sul vivo sono da prendere e buttare quindi letteralmente mi fa perdere degli scatti abbiamo una lente in più che non è per niente poco tra l'altro una lente che a sua volta è anche macro queste macro quasi fanno da a loro volta lente in più e quindi non è cosa da poco e abbiamo la gestione del diaframma che uno dice vabbè ma il diaframma su smartphone ma chi si mette no vi assicuro che se dovete affrontare un progetto dovete portarvi a casa delle cose con un po' di cognizione di causa e sapete di avere il diaframma su quel sensore su quella lente lì vi assicuro che poi lo sfruttate quindi non è non è per niente cosa da poco quindi direi che la cosa che rimane è come sempre il mio consiglio è capire cosa vi serve capire qual è la direzione che preferite capire qual è l'estetica che preferite rispetto a ciò che vi può restituire l'hardware sotto il punto di vista dell'estetica e fare la vostra scelta non c'è necessariamente un migliore o peggiore in assoluto certo lo Xiaomi ha proprio delle cose in più fisicamente che si fanno sentire mentre tutto il resto bene o male tra post-produzione e quant'altro è abbastanza allineabile tra i due telefoni non so se capite che intendo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre sono super disponibile e divertito dal farmi una chiacchierata con voi vi ricordo come sempre che potete sostenermi se vi piacciono questi contenuti seguendo il canale commentando attivando la campanella per seguirmi instagram e tiktok per vedere i miei lavori ma soprattutto www.vincenzo.decaro.com per conoscerci meglio e come sempre noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti